Ma buongiorno studentelli belli, pronti per questa nuova cionnolina? In questa tristissima puntata vi racconteremo la vita e le opere di quel masticalibri di Giacomo Leopardi. Iniziamo! Giacomino Leopardato nasce il 26 giugno del 1798 a Re Canati. Sin dai primi anni in questo brutto mondo Giacomo dimostra di avere una TESTA ENORME! Scrive poemi sia in italiano che in latino e la sua memoria è pazzesca! È l'orgoglio di suo padre Monaldo. Sua madre invece, la stilosissima Adelaide, non se lo c***a di pezza, troppo fredda e fissata con la religione. Questa mancanza di affetto da parte sua costringe Giacomo a rifugiarsi nei libri. Iniziano così, i sette anni di studio matto e disperatissimo. Un lungo periodo in cui sacrifica sia la sua vita sociale che la sua schiena. In compenso però impara alla perfezione il greco, il francese e l'ebraico. Traduce i testi di Omero e compone diverse opere come Storia dell'Astronomia e Il saggio sopra gli errori popolari degli antichi. Io invece studio 36 secondi e impazzisco! Nel 1816 Leopardi evolve il suo stile di scrittura. Mette da parte le opere da cervellone e si focalizza sulla bellezza dell'arte. Inizia a buttare giù progetti, idee e pensieri sul suo diario personale. Lo Zibaldone. Nel 1816 Giacomo fa il pazzo e tenta di scappare di casa. Suo padre si comporta da sbirro, lo becca e lo rispedisce a casa. Giacomo si sente in trappola e cade in depressione. La tensione con i genitori sale. Leopardi vuole realizzare i suoi sogni. Sua madre vuole che diventi prete. Tutta quest'ansia però gli permette di scrivere la sua poesia più famosa, l'infinito. Che adesso, senza cercare su Google, scriverai qui sotto nei commenti, perché ormai te la ricordi a memoria, vero? Nel 1822 fa un salto a Roma. Spera di trovare l'ispirazione per i suoi post, ma rimane deluso. I monumenti non gli dicono nulla e le donne della città sono stupide e troppo facili. Solo il Gianicolo riesce a catturare la sua attenzione. Lì, ci ha sepolto l'idolo di Leopardi, il leggendario poeta, col nome da Pokémon, Torquato Tasso. Leopardi torna a Recanate e scrive le operette morali, con cui entra ufficialmente nel pessimismo cosmico. Il viaggio di Leopardi continua, visita a Milano, Bologna, Firenze e nel 1828 si ferma a Pisa, dove finalmente trova l'ispirazione. È qui che scrive il risorgimento e a Silvia. Torna a Recanati, dove trascorrerà 16 mesi di notte orribile. In questo brutto periodo scrive Robetta Tipò le ricordanze, la quiete dopo la tempesta, il sabato del villaggio e il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Più lungo il titolo che la poesia. No, sto scherzando Giacomo, non guardarmi così, ti prego. Leopardi lascia Recanati per sempre e si trasferisce a Firenze. Fa amicizia con lo scrittore napoletano Antonio Ranieri e fraintende totalmente i segnali della bella Fanny Targioni Tozzetti. Ferito dalla delusione amorosa, Giacomo realizza il ciclo di Aspasia. Nel 1832 Leopardi scrive il suo ultimo appunto sullo Zibaldone, diventato ormai un mattone di 5.000 pagine. Nell'ottobre del 1833 Leopardi e Ranieri si trasferiscono a Napoli. A causa del colera però, i due insieme alla sorella di Ranieri, Paolina, sono costretti a spostarsi a Torre del Greco. Qui scrive le sue ultime opere, tra cui la ginestra o fiore del deserto e il tramonto della luna. Conclude anche la stesura dei, eh, cos... Paralipomeni della Batracomio... Paralipomeni della Bratacap... Patracomo... Batracomio... Insomma quella! Nonostante la salute cagionevole, Giacomo fa come gli pare. Dormi di giorno, pranzo a mezzanotte, mangia schifezze. Ma sono io. L'unica a occuparsi di lui è Paolina, l'unica donna che lo amò, sebbene si trattasse di un amore fraterno. Muore tra le braccia di Antonio, il 14 giugno 1837. Che allegria! Abbiamo saltato qualcosa? Completate il ripasso con un commento qui sotto. Alla prossima, studentelli belli! gruppo personale gruppo personale archivista Grazie.